Si attendeva da tempo la pronuncia del Ter del Lazio sull'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ma dopo due anni è arrivata solo la sospensione del giudizio. È stata pubblicata infatti l'ordinanza che la sezione seconda terra del Tribunale Amministrativo Laziale ha pronunciato sul ricorso proposto dal Comune di Eboli contro i Ministeri della Transizione Ecologica, della Cultura e delle Infrastrutture e contro RFI per l'annullamento del decreto dell'agosto 2022 con il quale venne espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, la cosiddetta via, al progetto di fattibilità dell'otto battipaglia romagnano. Parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa sui siti Natura 2000 e parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento. Il Tribunale però ha sollevato la questione della competenza chiedendo il relativo regolamento al Consiglio di Stato e in attesa di ciò ha deciso di sospendere il giudizio. Nuovo stop dunque rispetto ad una questione sollevata ormai da tempo e attesa sul territorio, tanto più che si erano aggiunti al ricorso diversi comuni cilentani tra cui quelli di Pisciotta, Castelnuovo Cilento, Ascea, Vallo della Lucania, Vibonati, Sapri, Camerota, Cannalonga, Casalvelino, Caselle in Pittari e San Giovanni Appiro per dirne solo alcuni, oltre che la comunità montana a Bussento Lambre e Mingardo. Ci vorranno diversi mesi ancora dunque per decidere quale corte è competente mentre l'iter per la realizzazione dell'opera strategica va avanti. E' vergognoso che dopo due anni devono ancora stabilire la competenza, ha detto Vittorio Napolitano, presidente del Comitato Alta Velocità. Questo modus operandi determina scetticismo, delegittimazione e sdegno.